E' ufficiale da ieri sera, il Teramo riabbraccia Alfredo Donnarumma, il bomber dei bomber, colui che con i suoi 23 gol è stato il miglior marcatore stagionale fra tutti i campionati professionistici. 23 gol pesanti, fondamentali per spingere per la prima volta nella sua storia in Serie B il diavolo. Il Teramo non perde per intero dunque la coppia dei gemelli. Donnarumma ha svolto i primi giorni di ritiro col Pescara, prima di tornare in Biancorosso, e lunedì prossimo partirà per il ritiro di Rivisondoli. L'operazione si è concretizzata con l'acquisizione a titolo definitivo del cartellino dell'attaccante di Torre Annunziata che si è legato al Teramo fino a giugno 2018. Il fatto che per la prima volta in carriera giocherò per due anni di fila nella stessa società fa capire quanto sia stato bene qui e in che misura tenga alla squadra e alla città. Con la testa non sono mai andato via da Teramo. Queste le prime parole di Donnarumma dopo la firma sul contratto. Via Lapadule Bucchi, l'ex capitano ha trovato una nuova casa nell'ambizioso campo basso dell'ex tecnico Cappellacci in Serie D, la dirigenza Biancorossa lavora per ricostruire l'attacco. Così dopo Donnarumma è stato individuato il profilo di Stefano D'Agostino, 23enne giocatore scuola Sampdoria, una scommessa quella del diavolo per un giocatore di grande talento ma che non è ancora esploso del tutto, almeno tra i pro. Seconda punta o esterno sinistro d'attacco, D'Agostino dopo alcune parentesi in Lega Pro con Catanzaro e Pontedera viene da una ottima stagione in D con le maglie di Terracina prima e Fondi poi, con le quali è siglato in totale 26 reti. A breve dovrebbe giungere l'annuncio. Si allarga dunque la pattuglia di giocatori che Vivarini avrà a disposizione in vista del raduno. La situazione è certamente migliorata rispetto alla prima data che era stata fissata per l'inizio del ritiro. In particolare il ritorno di Donnarumma è una iniezione di fiducia per tutto l'ambiente bianco-rosso e quei tifosi in attesa della definizione della vicenda sulla partita Savona-Teramo con la società che affila le armi dopo il summit con l'avvocato Chiac e tutto il suo staff legale e si prepara a fronteggiare gli attacchi degli uomini della Procura federale.